Ormai ci sono diversi vaccini in prove cliniche, altri che stanno per entrarci. Delle prime risposte dovrebbero esserci nel primo autunno e forse, se siamo fortunati, i primi vaccini a fine dell'anno. Lo scienziato senese Rino Rappuoli, amministratore delegato della GSK, nonché uno dei massimi esperti di vaccini al mondo, ha ipotizzato un orizzonte temporale entro il quale possa arrivare la svolta in grado di chiudere l'emergenza coronavirus. E' chiaro, ha aggiunto Rappuoli, intervistato da Siena News, a margine della posa della prima pietra del nuovo Smart Lab della multinazionale farmaceutica, i primi vaccini saranno poche dosi, la quantità grande arriverà nel 2021. Siamo a buon punto per una serie di motivi. Uno, perché per ora, dai dati che abbiamo, fare un vaccino per il Covid non dovrebbe essere tecnicamente molto difficile. Due, perché le tecnologie di oggi ci permettono di andare velocissimi e tutti i vaccini che sono in sviluppo sono stati fatti partendo da geni sintetici, partendo dalla sequenza del virus scaricata da internet, quindi una cosa che un po' di anni fa non ci si pensava neppure. Quindi tempi velocissimi. L'altra cosa che è impressionante è che questa volta c'è un investimento, che non c'è mai stato prima nella storia, di soldi per accelerare lo sviluppo di vaccini e la messa a punto di impianti di produzione di grandissime quantità.